Una giovane turista di 21 anni originaria della Corsica è stata vittima di violenza sessuale in pieno giorno nella centralissima piazza Europa a Catania. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Borgognina, la ragazza si trovava seduta su una panchina quando è stata avvicinata da un uomo di 58 anni. L'uomo, con il pretesto di chiedere informazioni stradali, ha avviato una conversazione con la giovane turista. Spacciandosi per fisioterapista, le ha fatto notare una presunta postura scorretta, offrendosi di massaggiarle la schiena. Con questo stratagemma, approfittando della situazione e carpendo la fiducia della ragazza, il 58enne ha allentato la cintura dei pantaloni della ragazza, le ha sfilato scarpe e calze ed ha poggiato la propria gamba sinistra sui suoi genitali. La giovane, rimasta inizialmente paralizzata, superato lo shock iniziale, è riuscita a divincolarsi a fuggire chiedendo aiuto alla polizia. L'aggressore si è data la fuga prima dell'arrivo degli agenti. La vittima sportò denunce presso il commissariato di Borgognina che hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo a identificare l'aggressore in breve tempo. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 58enne.